E' molto carina. E' questo il tipo di ragazza che ti piace? Mi dispiace tanto per quello che hai ereditato da tuo padre. Ma volevo tanto un figlio. Vado a trovare mia madre domani. Hai mai desiderato che fosse morta? Cosa? Vu, sei all'aeroporto? Sto arrivando, devo solo... Non è sicuro là fuori, vero? Sinceramente ne dubito. Sono sicura che farai la cosa giusta, tesoro. No, no, nel giro che via 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 via. Grazie a tutti.